Andiamo al segno del leone, se c'è un segno che in questa giornata è il tipico segno che cento ne pensa e mille ne fa, è proprio il leone perché sarete irrefrenabili in questa giornata, avete tante idee, tante cose da fare, tante proposte da avanzare al vostro partner, ai vostri amici, ai vostri familiari, insomma una giornata molto dinamica, una domenica molto bella in cui vi attendono anche dei momenti di svago, di divertimento, di gioia e ne avete anche bisogno voi amici del leone che ultimamente vi eravate presi anche un po' troppo sul serio, avevate pensato molto al lavoro, al denaro, agli impegni professionali a portare avanti con grande attenzione anche ai particolari, adesso invece potete vivere in maniera un po' più leggera, più allegra e più spenserata e questa domenica ne darà l'occasione, attenzione ai piccoli spostamenti che possono riservare qualche imprevisto, andiamo al segno della Vergine, per voi amici della Vergine questa è la domenica della Vergine di